Nonostante la sorveglianza massiccia delle forze di polizia, almeno secondo quanto hanno sempre detto le istituzioni, a Sansevero la criminalità continua a sfidare lo Stato e a mettere a segno atti delinquenziali. Ieri sera una bottiglia incendiare è stata lanciata nella villetta Giuseppe Clemente, architetto e tesoriere del Lance Foggia. Le fiamme hanno parzialmente danneggiato l'ingresso della villa, il cortile e l'automobile della moglie del professionista. L'attentato è avvenuto intorno alle due di ieri notte. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme e che avevano raggiunto anche la scalinata che conduce all'appartamento dove stavano dormendo i due figli del professionista foggiano. L'attentato è stato registrato dall'immagine della videosorveglianza che ora sono in mano agli inquirenti che stanno cercando di individuare l'autore del gesto. In passato Clemente aveva denunciato tentativi di estorsione quando stava costruendo un supermercato a Foggia e in questo periodo il tesoriere del Lance è impegnato con altri soci nella realizzazione di un altro grande supermercato. Ecco perché gli inquirenti non escludono che l'attentato subito ieri possa essere legato proprio a questo nuovo suo progetto imprenditoriale. E in attesa di capire il movente esatto del gesto, l'unica cosa certa al momento è che a Sansevero la criminalità non ha alcuna paura di quanti uomini delle forze di polizia possano giungere in più. Loro, i criminali naturalmente, continuano i loro progetti infischiandosene delle promesse delle istituzioni e questo tutto a discapito della popolazione che continua ad avere paura.